L'amministrazione comunale di Sansevero si ritiene soddisfatta degli esiti dell'incontro con il ministro dell'interno Luciana Lamorgese e vertici nazionali delle forze dell'ordine. Nell'incontro istituzionale che si è svolto lo scorso 17 gennaio, prendendo atto della gravità della situazione e della sfida lanciata dall'organizzazione mafiosa alle istituzioni dello Stato, si è convenuto tutti sulle necessità di una risposta tempestiva allo stesso tempo proporzionata all'attacco sferrato dalla criminalità. In particolare il ministro ha specificato che una liquota significativa di uomini verrà impiegata sul territorio già nelle prossime settimane. Si tratta di agenti di polizia, carabinieri, militari che saranno adoperati per intensificare il controllo dello stesso nelle ore notturne. In secondo luogo il capo del Viminale ha garantito che sarà conclusa l'istruttoria ministeriale per conferire al comune di Sansevero ulteriori fondi per implementare il sistema di videosorveglianza. Inoltre il rappresentante del governo ha riaffermato la volontà del ministero dell'interno di realizzare la cittadella della sicurezza in via Terranova, già finanziata per oltre 4 milioni di euro con la possibilità di un ulteriore finanziamento per l'alloggiamento delle forze di polizia. Contestualmente alla già finanziata infrastrutturazione il ministro Laporgese ha annunciato l'elevazione del commissariato di polizia di Stato di Sansevero al commissariato di primo dirigente entro il 2022.